Ezio Reinaldi lascia la presidenza del Teatro Stabile d'Abruzzo. È una decisione destinata a far rumore, quella annunciata dal numero uno del TSA, che probabilmente verrà formalizzata nella giornata di domani. Mentre in regione ancora si discute della concessione del contributo per la Sinfonica, lo stanziamento da mezzo milione di per il TSA è ancora avvolto da lumbe incertezze. Con i 300.000 euro spettanti al TSA e di 200.000 euro che invece sono stati promessi all'uovo, che è confluito proprio nello stabile abruzzese, il problema per Reinaldi, potrebbe essere risolto con una semplice decisione della maggioranza e dell'Aggiunta. Per Reinaldi invece lo stanziamento arriverà ma con una quota inferiore a quanto stabilito negli accordi con la regione, che lo ricordiamo è ente fondatore del TSA, uno scenario che comporterebbe riduzioni a produzioni e verosimilmente anche al personale, un'ipotesi di cui il presidente uscente non vuole essere responsabile e che lo ha portato alle dimissioni che, salvo colpi di scena, saranno irrevocabili. Il problema è che non è assolutamente un fulmine perché ho scritto al presidente D'Alfonso la scorsa settimana preannunciandogli tutto quello che sono difficoltà, ma preannunciandogli anche in assemblea, convocata appositamente per avere risposte concrete perché siamo ad ottobre e non c'è il bilancio ordinario. Non stiamo chiedendo il terro stabile, non va a chiedere i debiti regressi che oggi fortunatamente non sono stati fatti, ma si vanno a generare se si comincia a ridurre sempre più il contributo della regione. A questo punto, arrivati al mese di ottobre, quindi a fine anno, venga la regione, il suo ente a prendere queste decisioni, se vuole tagliare il personale o se vuole fare commissariarlo, perché se attinge al fondo di riserva il secondo anno, l'ente chiaramente va comunque in perdita. Ad oggi io non ci sto, non sono stato chiamato per questo, quello per il quale mi sono gratificato, onorato di rappresentare l'ente e ripeto anche gratuitamente, ma lo facciamo perché è giusto e l'ente è regionale, non sono le polemiche che si vogliono fare sul localismo, sul campanilismo, non è quello. Il problema invece è far sì che un assessore alla cultura, per giunta presidente di regione, in questi mesi e anni mi sarebbe piaciuto avesse un'interlocuzione con l'ente. Se non c'è, evidentemente il problema è di fondo e bisogna risolverlo in altra maniera, sia la regione a farlo e chiaramente mi faccio da parte, ma con questo spirito, forse sacrificando me può darsi la regione, venga a quel punto, non ha più la foglia di figo davanti e dovrà prendersi necessariamente in mano alla situazione.